In collegamento da Siracusa oggi siamo con l'assessore regionale alla formazione Bruno Marziano. Un presidio tutto siracusano per questioni che vanno trattate a Palermo. Questioni di lunga gittata di cui si sta parlando a 360 gradi in questi giorni. Ci sono soluzioni abbastanza a tempi brevi. Quindi sulla notizia qui parleremo intanto di Port Authority. Anche perché la polemica è davvero forte, pesantissima, tutti hanno alzato gli scudi. Ma ci sono delle prospettive di recupero? Io ho posto con forza durante una riunione di giunta che ho sollecitato su questi tre argomenti. Questione della Port Authority di Augusta, la vicenda dell'accorpamento delle Camere di Commercio e il futuro dell'IAS, cioè Industria Acqua e Siracusana, il depuratore della zona industriale. ho posto in giunta un problema che ritenevo e ritengo assolutamente sbagliato e frutto di notizie non vere e di una istruttoria non veritiera sottoposta al Presidente Crocetta. Qui ho ritenuto sbagliata la richiesta di spostare, ancorché solo per due anni, la sede della Port Authority. Il Presidente Crocetta ha valutato talmente, diciamo seriamente, le mie osservazioni che nel corso dell'incontro tenuto a Messina, nel contestare la scelta che riguarda il porto di Messina, ha dichiarato apertamente che intende rimettere in discussione tutte le decisioni assunte sul sistema della portualità della Sicilia, dalle nomine che sono tutte esterne agli esperti in materia siciliani, fino alle decisioni che riguardano la destinazione delle sedi. Non è ancora la decisione di revocare quella lettera, ma ci si pone nella condizione di dover rivedere tutto. Questo renderà più forti i nostri rappresentanti nazionali che devono chiedere al Ministro del Rio di non procedere con la pubblicazione di quel decreto. Il Presidente Crocetta si è impegnato quindi a ridefinire tutta questa partita, anche perché, come emerso dall'incontro al Comune di Augusta di due giorni fa, un'intera popolazione, un'intera provincia, tutte le organizzazioni sindacali e datoriali della provincia di Siracusa intendono contestare una scelta che sarebbe uno scippo, perché era qualcosa di già attribuito ad Augusta e verrebbe. Anche perché l'Istat ci dice che il pil più alto della provincia di Siracusa è garantito proprio dal porto di Augusta? Assolutamente sì, tutti quei dati che sono stati portati al Presidente Crocetta per supportare una decisione diversa sono assolutamente dati di parte che vanno rivisti. La stessa cosa è avvenuta... Camere di commercio, l'altra storia lunga dove si fanno barricate. Io ho fatto presente al Presidente Crocetta, che è fermo restando che tutto il percorso non è stato di competenza della Regione, però l'atto finale era in capo al Presidente Crocetta. Ho fatto presente che dalla provincia di Siracusa sono emerse una serie notevole di segnalazioni di illegittimità, di illegalità, che sarebbero state commesse nel corso dell'iter di accorpamento e che quindi doveva evitare di caricarsi la responsabilità di un atto che poi sarebbe stato imputato al Presidente Crocetta. Con grande mia soddisfazione ho saputo che ieri, appena quindi 48 ore dopo la riunione di giunta, il Presidente Crocetta ha revocato il decreto di accorpamento, alla luce del decreto Madia si può ricominciare e noi possiamo lavorare per un accorpamento più equilibrato. Io propendo per un accorpamento con la provincia di Ragusa, in cui due province dello stesso peso si mettono assieme e nessuna può prevalere sull'altra, piuttosto che un accorpamento che ci aveva ridotto a forza risibile e minoritaria nella costruzione della maxicamera di commercio. Concludiamo con l'IAS, un altro punto nevralgico dal depuratore biologico consortile, dipende il futuro della zona industriale. Ed è proprio per questo, perché quello è un impianto strategico nel funzionamento della zona industriale che abbiamo stabilito dopo quella discussione in giunta, che la prossima settimana ci sarà un incontro al quale parteciperanno l'assessore al ramo, cioè la vicepresidente Lobello, la commissaria dell'IRSAP che è anche presidente dell'industria acqua siracusana, le organizzazioni sindagali e il consiglio di amministrazione, perché ci sia un confronto proficuo sul futuro dell'impianto. Qua nessuno sta rivendicando posti, ruoli e quant'altro. Vogliamo tutti assieme concordare e discutere su quale deve essere il futuro dell'impianto, la nuova governance, cioè su come salvaguardiamo quello che è uno dei punti di forza della zona industriale siracusana. Questo è stato ottenuto e è un altro elemento di soddisfazione perché mette i lavoratori in condizione di stare sereni e le aziende che sono quelle che gestiscono e che pagano, che tengono in vita l'impianto, sono in condizione di sapere qual è la futura governance. Concludo dicendo che anche su una quarta emergenza di questa provincia, quella che riguarda proprio l'ente provincia, abbiamo concordato con il commissario Arnone, il presidente della regione e i due assessori di riferimento, un incontro da farsi in tempi rapidissimi perché la situazione dell'ente provincia è drammatica e dobbiamo evitare che diventi un'altra delle emergenze della provincia. Grazie all'assessore Bruno Marziano, da Siracusa è tutto, a voi studio.